che giocata in dribbling è un po' troppo timì la timì può andare c'è tiro e c'è il gol del Cesena ed è il primo gol della gara questo lo ricorderà come uno dei gol più facili realizzati in carriera è stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto dicozzio